Completato l'anno scolastico 2012-2013 anche per gli sfollati dell'Ipierico Fermi di Agrigento, gli studenti appartenuti ad un istituto fantasma, poiché privati dell'ampia struttura scolastica chiusa per grave rischio di cedimento strutturale lo scorso 10 settembre 2012. Siamo qui con il Preside Casalicchio per un aggiornamento della situazione e se realmente a settembre potranno ritornare nel loro istituto. La situazione non si è evoluta per niente, nel senso che a settembre rischiamo di essere ancora fuori dalla porta, fuori da questa scuola perché sicuramente il CAP non sarà pronto quantunque sono stati fatti i bandi e quindi chiediamo a viva voce che qualcuno si interessi di noi a partire dal primo cittadino di questa città, a partire dal commissario nuovo alla provincia perché ci trovino una soluzione in modo tale da poter iniziare la scuola regolarmente come tutti gli altri scolari e come tutti gli altri alunni della provincia. Oggi la provincia non esiste più, il commissario ha preso in mano la vicenda, vi siete incontrati? Io incontrerò il commissario domani alle 11, a lui dirò e manifesterò lo stato d'animo di tutta una comunità che rischia di rimanere completamente fuori e dal diritto allo studio e dal diritto al lavoro e dirò che naturalmente quantunque i bandi siano stati fatti, quello che è certo è che a settembre non avremo una scuola nostra. Il caso dell'IP è quasi un caso di mala scuola? Senz'altro, il caso dell'IP è un caso di gravissima mala scuola. Noi abbiamo vissuto un anno terribile, siamo stati penalizzati volontariamente o involontariamente per incapacità. Chi amministra la nostra città, chi amministra la nostra provincia non è stato in grado di risolvere un problema che coinvolge 1200 famiglie, cosa abbastanza consistente. È da un anno che lottiamo, da un anno che facciamo sacrifici, che i nostri ragazzi fanno sacrifici, che le loro famiglie fanno sacrifici, è un anno che gli insegnanti e il personale ATA fa sacrifici avendo turni di mattina e di pomeriggio. La nostra utenza è un'utenza di ragazzi che viene dalla provincia e ha difficoltà a raggiungere la sede nel pomeriggio. Io sono una vittima, infatti sono un perdente posto e dopo 20 anni di insegnamento dovrò ritornare a girare per la provincia. Lo stesso tanti altri colleghi della scuola. Una situazione che se non viene appianata pone anche un grave rischio di perdita di posti di lavoro per molti docenti. Sì, infatti io sono qui all'EPIA dal 1984 e quest'anno, visto la situazione e la diminuzione dei ragazzi, si è creato un disagio e io sono uno di quelli che probabilmente dovrò fare, anzi ho già fatto domanda di trasferimento, in un'altra scuola perché per molti di noi si tratta di tagli e quindi posti di lavoro.